Il viaggio del vaccino contro il Covid-19 iniziato ieri. Scortato dai carabinieri ha superato il passo del Brennero, proveniente dal Belgio. Il fulgone con le prime 9.750 dosi del vaccino anti-Covid destinate all'Italia ha raggiunto in mattinata lo Spallanzani di Roma. Da lì le dosi saranno poi distribuite oggi e domani ai 21 siti principali regionali di riferimento, in vista del V-Day europeo di domani. Per quest'operazione entrerà in campo la difesa con Aeronautica, Esercito e Marina per l'operazione EOS. È solo l'inizio di un'operazione che a step porterà 10-15 milioni di cittadini sottoposti a vaccinazione, per avere un impatto significativo, come ha detto il premier Conte, entro aprile. Ritornando al V-Day, dallo Spallanzani, come detto, da lì le dosi saranno distribuite in tutte le regioni. In campagna ne arriveranno 720, presumibilmente fra stanotte e domattina, e di queste 100 all'ospedale Ruggi di Salerno. È solo l'inizio. Il primo vero step della campagna di vaccinazione, che sarà dedicata soprattutto al personale sanitario, 5.000 le dosi date al Ruggi, inizierà probabilmente il prossimo 2 gennaio. Ma quello di domani, oltre ad essere un giorno di grande significato simbolico, rappresenta anche un bango di prova per verificare che tutto sia stato predisposto al meglio. Sono giorni che ci si sta preparando. All'azienda universitaria ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi di Salerno sono stati allestiti 6 ambulatori, che dalle 10 di domani mattina alle 16 del pomeriggio somministreranno le prime 100 dosi del vaccino. Già pronta la lista. I primi 100 sono stati scelti dal pronto soccorso del Ruggi, dai reparti Covid del Giovanni da Procida e dal presidio di Castiglione di Ravello. Saranno in 6, uno per ogni ambulatorio, ad avviare il videi salernitano. Oltre ai luoghi di somministrazione, si sono allestiti anche gli spazi per l'accoglienza e l'osservazione post-somministrazione, oltre che uno spazio dedicato ad eventuali effetti negativi della vaccinazione.